Raspbian X e iRaspbian, che tra l'altro Google non conosce. Sono queste due, diciamo così, flavor, se vogliamo dirla così, di Raspbian, del sistema operativo ufficiale di Raspberry, che in qualche modo sono state insabbiate. Però prima di tutto, Raspbian X è questa distribuzione per Raspberry, appunto, che se noi andiamo a vedere, sembra una Windows, infatti clicchiamo questa, questa qui è la miniatura di qualche video. Comunque, come vedete, sembra, comunque richiama Windows, addirittura il logo di Windows qui sotto, quindi... Però non è Windows, uno può pensare, ok, è Windows per Raspberry. No, è una distribuzione Linux, non fatta dalla Raspberry Pi Foundation, fatta da, in realtà non so neanche chi. Comunque, come vedete, non è un Windows vero e proprio, perché si vede che comunque questo qui è il menu di XFCE, cioè praticamente uguale a quello che ho io. Quindi, non è un Windows per Raspberry, però, come vedete, è identico. E la stessa cosa ai Raspbian. Ai Raspbian, come fa capire il nome stesso, è Raspbian, che però ha le sembianze di un MacOS. Infatti, come vediamo, anche qui, ok, vediamo che Linux, perché RaspiConfig, eccetera, eccetera, però, come vedete, è assolutamente identico, clicchiamo anche questa, è assolutamente identico a un MacOS, come vedete. E ora, in questi giorni, si è creato un po' questo alone di mistero di fronte a queste due distribuzioni, diciamo così, perché sono nate da relativamente poco, ok, si parla di neanche un mese alla fine, però sono state come insabbiate. Sembra quasi che contenessero dei segreti particolari che nessuno voleva che uscissero e che quindi siano state insabbiate. Ovviamente questa cosa che ho appena detto è assolutamente una cosa che mi sono inventato io, non contenevano nessun segreto, però, di fatto, se noi andiamo a vedere, ad esempio, questo video, ok, questo video si apre di ATA ePrime, sicuramente lo conoscete, o comunque, anche se non lo conoscete, comunque è questo utente che porta video su Linux. Noi andiamo a vedere qui, mostra altro. Se io vado ad aprire questo video, addirittura, è stato rimosso dall'utente, quindi addirittura sembra che qualcuno abbia detto a questi utenti rimuovete i video che mostravano RaspbianX o iRaspbian per come sono. E se noi andiamo a vedere, ad esempio, chi diamo qui, anche la pagina di RaspbianX, io la vado a cliccare, si apre così, come vedete, una pagina bianca senza niente e voi potreste pensare, ok, ma essendo che è una distribuzione appena pensata, probabilmente stanno ancora sviluppando il sito. Il problema è che non è così, perché se io apro il Wayback Machine, ok, per chi non lo conoscesse, è praticamente una macchina del tempo per i siti internet, io qui inserisco RaspbianX.com e vado a vedere l'history. Ok, lui ha trovato il 17 maggio 2020, uno snapshot, diciamo così, io lo vado ad aprire e vediamo che effettivamente il 17 maggio il sito esisteva, come vedete. Può essere tranquillamente, come vedete, c'è sia RaspbianX che iRaspbian. Quindi, cosa è successo a queste distribuzioni? A tal punto da essere addirittura nascoste, sembra quasi che siano state nascoste per qualche motivo. In realtà la motivazione è veramente molto molto semplice. Essendo che questa distribuzione è spiacicata Windows, perché sicuramente non si può dire il contrario, è praticamente un Windows in versione Linux ancora peggio di quello che avevo fatto vedere quella volta, Windows 12 Lite lì. Non so se vi ricordate, ma in pratica era questa distribuzione che era in tutto per tutto un Windows con un'unica differenza che perlomeno il menu non è con il logo di Windows, eccetera, eccetera. Praticamente, cosa è successo? Che sia Windows che MacOS si sono lamentati, hanno fatto rimuovere appunto queste distribuzioni. Per il semplice fatto che comunque sia Microsoft che MacOS, dico giustamente, sono molto restrittive da questo punto di vista. Cioè io non posso copiargli tutti i temi spiacicati però su Linux, perché giustamente loro dicono questi sono i miei temi, i miei font, le mie cose che ho fatto io, tu non puoi rubarmeli così come se niente fosse. E quindi praticamente in poche parole non c'è niente di misterioso, non c'è niente di segreto. Ciò che è successo è che sia Microsoft che MacOS si sono lamentati, hanno fatto in modo che queste distribuzioni Linux per Raspberry venissero rimosse. Semplicemente tutto qui. Quindi spero di aver fatto un po' di luce in questa vicenda che sicuramente sembrava anche misteriosa, sembrava quasi inquietante, come se avessero voluto nascondere qualcosa però in realtà era più semplice di ciò che sembrava. Io spero quindi che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, che appunto vi abbia tolto qualche dubbio. Noi ci troviamo in un prossimo video. Nel frattempo c'è il mio computer che dal 96 passa al 94 di colpo. Ciao belli!